Partita del cuore, anche se non gioca, la sua presenza non poteva non mancare. Piero Palumbo. Che piacere rivedere te e far parte di questa bella manifestazione in onore e in memoria di Rosario Fioretti. Questo ragazzo che è stato l'amico di tutti, anche se è giovane. Io non ho avuto il piacere di conoscerlo, però con il cuore sono veramente vicino a lui, alla famiglia e sono dispiaciuto di quello che è successo. Quindi non potevo mancare a questa bella organizzazione, questo pomeriggio qui, con te e con tutti gli amici che sono presenti. Dio ha voluto una bellissima giornata per ricordare Rosario Fioretti. Oggi iniziano le belle giornate, primavera, estate, i progetti di Piero Palumbo per questi sei mesi prossimi? Guarda, tu sai che come tutti gli amici è uscito il mio album Vivo in Musica sei, sette mesi fa e ancora nel fior fiore del, diciamo, del... Stando un meglio. Stando un meglio. Proprio adesso, diciamo, mi sta dando in questi periodi delle grandi, grandi soddisfazioni, anche perché sto facendo un programma su Italia Mia e Canale Italia ogni mercoledì. Però ci sono tante feste, tanti progetti per altri artisti che tu sai io scrivo tanto insieme a Tony Aprile. Che salutiamo, ciao Tony. E quindi restate in ascolto perché ne sentirete di belle, veramente. E tienimi presente. Tu sei l'amico mio di sempre. Grazie a tutti.